La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per 27 persone tra ex amministratori e funzionari del Comune di Modugno e imprenditori coinvolti nell'indagine su presunte tangenti in cambio di concessioni edilizie. Il PM Francesco Bretone contesta gli imputati reati a vario titolo di associazione per delinquere, concussione, corruzione, falso, peculato, estorsione, truffa, riciclaggio e lottizzazione abusiva. L'inchiesta, il 30 novembre del 2012, portò all'arresto di 12 indagati, tra cui gli ex sindaci Pinorana e Mimmo Gatti. Abusando sistematicamente dei propri poteri, scriveva il giudice accogliendo le richieste d'arresto della Procura, richiedevano ed ottenevano prestazioni in denaro e altre utilità in cambio delle licenze edilizie. Dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso che consiglieri comunali, assessori e dipendenti avrebbero preteso e riscosso da un imprenditore, la presunta vittima degli episodi di concussione Pasquale Lombardi, denaro per oltre 800 mila euro tra il 2003 e il 2008, per il rilascio di autorizzazioni edilizie. Le dichiarazioni dell'imprenditore sono state poi cristallizzate dall'accusa del corso di un incidente probatorio, ora agli atti del fascicolo, prescritti reati più datati, commessi prima del 2005 in quello che lo stesso giudice aveva definito un decennio di illegalità, sopraffazione, arrecchimenti illeciti da parte di amministrazioni e funzionali pubblici infedeli.